Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna code a tratti per traffico intenso tra il bio per la 11 e Barberino, fare attenzione per nebbia a banchi segnalata nel tratto tra Rioveggio e Pian del Voglio. Sulla A12 per lavori è chiusa l'entrata di Colle Salvetti in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Ricordiamo che fino a metà febbraio 2024 la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del vivio per Coltano per i lavori di ricostruzione del Cavalcavia. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!